Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti a questa videoguida, il cui argomento vuole essere quella che Daniel Goleman chiama intelligenza emotiva, in relazione allo storytelling, alla narrazione, e in particolar modo alla narrazione transmediale. Infatti, una delle caratteristiche essenziali della narrazione è sempre stata l'immedesimazione, i meccanismi di immedesimazione, di coinvolgimento emotivo, che rendono affascinante e immersiva la narrazione stessa, sono una delle sue armi vincenti, per così dire, ma che possono rappresentare anche una modalità di manipolazione delle menti delle persone. Da sempre, infatti, la narrazione è stata non solo il principale strumento per la costruzione e trasmissione dell'identità collettiva, ma anche dell'identità individuale, o di interpretazione della realtà, porre ordine nel caos del mondo, diceva a proposito della narrazione Umberto Eco, o di apprendimento, ma anche uno dei più potenti strumenti di manipolazione e di potere creati dall'uomo. Tanto più questo vale per la narrazione transmediale, che è capace di costruire un universo immersivo, attraverso lo spezzettamento della struttura lineare della narrazione stessa, le cui parti vengono distribuite su più canali comunicative e attraverso più media raggiungono il fruitore, lettore, uditore, spettatore dell'universo transmediale, che attraverso dei punti di ingresso entra dentro questo universo, il cui, in qualche modo, compito, ruolo attivo è quello di rimettere insieme questi pezzi, di ricostruire l'intero. Bene, proprio per queste sue caratteristiche, la narrazione transmediale può essere uno strumento di manipolazione ancora più potente della narrazione tradizionale. Non si tratta certo di un tema o problema nuovo, anzi è un argomento antichissimo. Platone, per esempio, mette in evidenza questo lato oscuro dello storytelling che lui chiama mania, cioè follia, uscire da se stessi, ecstasis, entusiasmo, essere indemoniati alla lettera, indiati, avere il Dio dentro di sé. Più esattamente dice Platone, la poesia che costituisce il modello narrativo per eccellenza dei tempi di Platone, cioè Omero, Esiodo, eccetera, la poesia riduce l'uomo, prima di tutto il poeta e poi coloro che ascoltano il poeta, a dei vasi vuoti, vasi vuoti da riempire, da riempire con le parole del Dio. Il poeta è un ingannatore, il poeta è come il sofista, il grande nemico di Platone, rappresentato appunto dal sofista, i sofisti, perché il poeta ricrea in qualche modo la realtà, utilizzando i meccanismi e la logica della narrazione, egli costruisce un mondo ingannevole, ma che ha l'apparenza della realtà, e che quindi viene creduto, preso come vero, all'apparenza della verità. La sua opera è quella del cinto di Apate, dice Platone, il cinto di Apate indossato faceva sì che anche le più grandi menzogne venissero prese come vere da chi ascoltava colui che aveva indossato appunto tale cinto. Quindi una menzogna che è l'apparenza della realtà, per cui il poeta, dice Platone, seduce. Opera un'azione di convincimento che è fondata non sulla ragione, la argomentazione o il dialogo, ma appunto sulla seduzione, e cioè attraverso strumenti che fanno appello, o comunque rimandano, all'emotività. Si tratta di un'opera minore di Platone, L'Oione, quella in cui Platone affronta tali problemi, oltre che nella Repubblica. L'esperienza estetica è quindi un'esperienza corruttrice, che porta all'oblio di sé, vuol dire l'incapacità di decidere del proprio comportamento e delle proprie scelte con la propria ragione. Perciò noi siamo agiti, per così dire, e cadiamo in dominio delle passioni. La ragione viene sospesa, in qualche modo, tramite l'azione del poeta, e entriamo in quello che è lo stato dell'entusiasmo. Dove ciò che facciamo, che diciamo e che pensiamo, non è determinato da noi, ma è determinato da una forza esterna che agisce su di noi. Bene, il fatto che la poesia rende schiavi, questa è la tesi di Platone, al punto che Platone caccerà, nel dodicesimo libro della Repubblica, se non sbaglio, i poeti, dalla sua città ideale, o la filosofia, o la poesia, è un out-out, non un et-et. È interessante come Platone descrive la capacità che ha la poesia, e che quindi ha la forza dell'emozione di condizionarci, la paragona alla pietra di Eraclea, il magnete. Così come il magnete attrae i corpi metallici, e trasmette per contagio ad essi il potere attrattivo, in modo che questi corpi metallici ne attragano altri, e poi altri, in una sorta di catena, che ho chiamato di condivisione e menzogna, così avviene anche per la poesia. La poesia è ispirata dal Dio, ispirata dalle muse. Quando il poeta parla, le sue labbra sono mosse dal Dio, sono le parole del Dio, non quelle del poeta, che escono dalla bocca del poeta. Il poeta non è in se stesso, il poeta è appunto posseduto. La sua ragione è tagliata fuori da quello che fa, dice e pensa. L'uomo non è più padrone di se stesso. In questo senso è un vaso vuoto, è un invasato, posseduto da forze strane. Il suo comportamento è un comportamento eteronomo, proprio come il movimento di un corpo metallico è determinato da una forza adesso esterna, che lo spinge in una certa direzione, e così il comportamento umano è determinato da una forza esterna all'uomo, quindi l'uomo non è libero, non decide in autonomia, dando a se stesso le proprie regole, il proprio comportamento, ma il suo comportamento è determinato da altro. Questa condanna della narrazione, a causa del suo potere di seduzione, della sua capacità di manipolazione, di espropriazione dell'uomo da se stesso, o alienazione potremmo anche dire, è talmente radicale che la tradizione narra che Platone, una volta presa la sua decisione di dedicarsi alla filosofia, avesse bruciato tutte le sue opere poetiche e giovanili. Eppure la cosa che sorprende, ma che è anche molto interessante, dal nostro punto di vista, è che Platone non rinuncia per niente a questo potere della narrazione, tant'è vero che Platone scrive racconti, alcuni dei quali sono tra racconti più famosi di tutta la nostra tradizione europea, di tutta la nostra civiltà, si pensi al mito della caverna, al mito di Eros, al mito degli androgini, o dell'anima raffigurata come una biga guidata da una origa. Perché Platone non rinuncia al potere della narrazione? Beh, probabilmente perché la narrazione è un modo più semplice di spiegare cose complesse, probabilmente perché la narrazione ha la capacità di coinvolgere, ricordiamo che per Platone il processo di conoscenza è un processo erotico che implica l'emozionarsi, l'essere trasportati da una passione condivisa, il ricercare insieme, però soprattutto perché, potremmo dire parodiando quello che dice Umberto Eco, ciò di cui non si può argomentare si deve narrare. perché quando si arriva a quelli che sono i limiti del discorso razionale, i fondamenti stessi del sapere sui quali non ci può essere una dimostrazione razionale, perché sono i fondamenti di ogni dimostrazione, ecco che allora il racconto ci può permettere di avanzare delle ipotesi, il come se, cioè ci può permettere di trattare narrativamente problemi e questioni che razionalmente non possono essere affrontati. e quindi torna utile appunto la citazione di Umberto Eco che a sua volta riprende la conclusione del Tractatus Logicus Philosophicus di Wittgenstein che si conclude appunto con la delimitazione di quelli che sono i confini del discorso razionale e poi Wittgenstein dice su ciò di cui non si può argomentare si deve tacere. Invece Platone anticipando per così dire Umberto Eco sottolinea che su ciò di cui non si può argomentare si deve narrare. Il rapimento della ragione e quindi il pericolo da cui Platone ci mette in guardia nei confronti della narrazione. Ciò che sorprende e che desta molto interesse è che Daniel Goleman e in generale le neuroscienze hanno messo in evidenza come quello di cui parlava Platone il rapimento della ragione l'amigdala hijack come viene chiamato costituisce uno dei meccanismi fondamentali legati alla sopravvivenza e legati al sistema limbico. La cosiddetta mente emotiva anche se un po' riduttivo dato che il sistema limbico ha a che fare anche con il nostro comportamento con la memoria con l'apprendimento e quindi anche con l'identità personale ed emotiva comunque è etichettato in generale il sistema limbico come il cervello emotivo. È un'area cerebrale che si trova attorno al tronco cerebrale è al di sotto della corteccia e della neocorteccia e quindi una sorta di anello da cui trago origine le emozioni e che gestisce le emozioni ma che gestisce anche quelle che sono alcune delle funzioni vitali fondamentali legate alla sopravvivenza come la lotta la fuga la nutrizione la riproduzione è attiva determinate emozioni o registra determinate o produce determinate emozioni che sono considerate da molti emozioni fondamentali innate che sono l'ira la rabbia la paura il piacere e il desiderio capire come funziona il sistema limbico ci permette anche di capire quei meccanismi del dispositivo narrativo che attivano il coinvolgimento l'identificazione e il coinvolgimento soprattutto dal punto di vista emotivo di chi fruisce di una narrazione bene quali sono le componenti gli elementi che compongono il sistema limbico diciamo che quelli che noi interessano sono questi tra il talamo l'ipocampo e l'amigdala il talamo in qualche modo raccoglie quelli che sono gli stimoli sensoriali provenienti dai vari organi di senso che sono gli occhi le orecchie la pelle e così via li elabora ne dà una prima elaborazione e poi via i risultati a quelle che sono le aree del cervello che dovranno presiedere alla risposta che l'organismo dà alla situazione che viene comunicata e rappresentata dagli stimoli sensoriali in particolare il talamo invia queste informazioni traducendole in linguaggio sinaptico diciamo così sia alla amigdala la mente emotiva sia alla corteccia la mente razionale l'ipocampo è una delle regioni più antiche del nostro encefalo ed è strettamente legato al talamo e all'ipotalamo a noi interessa perché è il depositario potremmo dire di quella che la nostra memoria remota ma anche di quella che la nostra memoria emotiva registra i ricordi e li colloca in un contesto spaziale ma associa ad essi anche la loro coloritura emotiva per esempio pericolo rabbia angoscia rifiuto accettazione e così via quindi memoria esplicita e memoria emotiva direttamente collegati ovviamente queste emozioni e questi ricordi emotivi di questo archivio o deposito della memoria emotiva a quelle che sono le funzioni base della sopravvivenza che abbiamo detto prima lotta, fuga, riproduzione e nutrizione infine abbiamo l'amigdala il cosiddetto grilletto emotivo del sistema limbico e più in generale del nostro cervello che attiva tutta una serie di modelli comportamentali in risposta a quelli che sono gli stimoli che provengono dal talamo e soprattutto scatena quello che è il cosiddetto amigdala hijack il sequestro dell'emotivo della mente razionale cioè ogni qualvolta l'amigdala associata all'ipocampo rileva una tonalità emotiva tale negli stimoli che vengono percepiti da mettere in gioco o mettere a rischio la sopravvivenza dell'organismo mette fuori gioco rapisce la mente emotiva ma comunque anche quando non si danno queste situazioni così gravi l'amigdala regisce sempre prima della mente razionale infatti esistono due strade che collegano il talamo che manda le informazioni alla corteccia la corteccia che è la neocortecia la mente razionale che è in grado di fornire elaborare una risposta a quegli stimoli o meglio a quella situazione nella quale il programma si viene a trovare che è registrata da quegli stimoli una risposta più adeguata basata sull'apprendimento basata sul discernimento sulla piena comprensione della situazione infatti e quindi invia all'amigdala le istruzioni e al resto dell'organismo le istruzioni su come comportarsi questa strada talamo corteccia amigdala è più lenta anche per il fatto che il talamo invia informazioni più elaborate alla corteccia che è in grado quindi di meglio comprendere la situazione e quindi di rispondere in modo più adeguato più adattivo e quindi vincente tuttavia cosa accade e quindi parliamo qui sempre di millisecondi comunque il collegamento l'altro collegamento è quello tra il talamo e l'amigdala che è un collegamento più diretto più breve non solo ma è anche più veloce la trasmissione dei segnali anche se più imprecisa cioè i segnali sono elaborati quando il talamo li manda l'amigdala in modo più rozzo noi non abbiamo una precisa comprensione della situazione e quindi l'amigdala reagisce in base a un'impressione imprecisa perché accade questo è il caso tipico del bastone che sembra un serpente ciò potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza dell'organismo e quindi l'amigdala reagisce evolutivamente questa è una mossa vincente tant'è vero che la via bassa quella che collega il talamo all'amigdala è di circa la metà in termini di millisecondi la metà del tempo rispetto ai segnali impiegano nella via bassa rispetto a quanto impiegano nella via alta o strada alta dicevo è legata a una risposta immediata meglio scambiare un bastone per un serpente ma reagire prontamente piuttosto che invece aspettare che il serpente ci morda prima che la neocortecia abbia preso la sua decisione e impartito le sue istruzioni quindi cosa avviene quando l'amigdala avverte un pericolo o meglio l'amigdala lavorando insieme all'ippocampo reagisce in modo spropositato perché avverte un pericolo nei segnali che gli sono inviati l'amigdala sospende disabilita potremmo dire la neocortecia diventiamo dei vasi vuoti e reagiamo secondo schemi innati che sono fondamentalmente quelli della lotta e della fuga reagiamo in modo dice Goleman estremamente irrazionale e distruttivo quasi delirante perché appunto l'amigdala mette in stato di allerta l'organismo pericolo di vita bene cos'è accaduto esattamente che cos'è questo sequestro emotivo l'amigdala abbiamo detto percepisce una corrispondenza tra lo stimolo che gli ha inviato il talamo e le esperienze minacciose registrate nell'ippocampo quando questa corrispondenza viene riscontrata l'amigdala scatta e l'organismo reagisce con schemi innati in modo anche estremamente sproporzionato e spropositato delirante quasi dice Goleman le indicazioni della corteccia sono più precise però sono più lente arrivano sempre dopo quando il ricordo emotivo cioè quando la reazione emotiva si è già determinata di accettazione o di rifiuto di paura o di piacere di attacco o di fuga è già stata determinata quindi come nel linguaggio quotidiano non si dice la prima impressione poi quella che conta anche se la prima impressione è necessariamente inevitabilmente inesatta imprecisa frettolosa e però è la prima impressione quella che conta esattamente per questo motivo perché l'amigdala regisce prima e quindi la mente emotiva regisce prima della mente razionale al punto che in determinate circostanze quando appunto viene riscontrato grazie all'ippocampo e alla memoria emotiva dell'ippocampo dell'ippocampo viene riscontrato un pericolo viene del tutto disattivata sequestrata la mente razionale non siamo più padroni in casa nostra di Afroi non siamo più padroni di noi stessi dice Platone quindi il rischio di perdere se stessi a causa della narrazione del suo contagio emotivo il magnete di cui parla Platone non è frutto di una sorta di bigottismo antiestetico da parte di Platone ma è qualcosa di effettivo di reale al punto che in tutti i grandi franchise transmediali si punta molto su quelle che vengono definite media sensing e media labeling che sono chiamiamole discipline che si occupano di ottimizzare rendere efficace al massimo la narrazione la struttura della narrazione la sua meccanica la sua dinamica in base alle reazioni emotive che si vuole suscitare nei fruitori il media sensing più esattamente si occupa della meccanica emotiva dato che una narrazione transmediale distribuisce le sue storie su media differenti dato che i media differenti hanno codici differenti occorre anche ottimizzare il repertorio emotivo che vogliamo creare e le reazioni emotive che vogliamo suscitare in base alle caratteristiche proprie di ogni media per esempio una certa emozione di coinvolgimento di paura può essere più efficacemente prodotta che so da un libro da una canzone da un fumetto da un film da un videogioco e così via chiaramente questi media hanno caratteristiche differenti che possono essere più o meno efficaci a seconda delle emozioni che vogliamo suscitare o inibire e poi il media labeling il media labeling l'etichettatura delle emozioni occorre esplicitare le emozioni che noi indirizziamo al pubblico progettarle distribuirle in modo opportuno nel nostro universo transmediale e nei vari media che esso coinvolge quindi quello che viene fatto è progettare disegnare e progettare un vero e proprio repertorio emotivo condiviso per meglio gestire i processi che devono portare a suscitare determinate emozioni o inibire determinate emozioni in quelli che un tempo venivano chiamati gli spettatori spettatori attori ormai e generare il contagio emotivo sfruttando la via bassa che è sempre più veloce cioè sapendo che la reazione a ciò che noi proponiamo nella nostra narrazione transmediale sarà sempre una reazione prima di tutto emotiva dove prima di tutto significa che viene prima e se sbagliamo in questo sarà difficile recuperare la mente razionale poi potrà deliberare decidere tutto ciò che vuole ma il gioco è già fatto l'impressione a livello emotivo è già stata determinata e sarà difficile cambiare idea per noi spettatori fruitori della narrazione e per chi quella narrazione e farci cambiare idea per chi quella narrazione la gestisce per gli autori diciamo così addirittura si può arrivare addirittura al sequestro emotivo cioè a scatenare nel pubblico reazioni così forti sfruttando la via bassa e sfruttando quegli schemi innati di reazione di fronte a ciò che viene avvertito dalla amigdala e dall'ippocampo come un pericolo insomma orientare emotivamente il pubblico è un fattore fondamentale nella narrazione transmediale e la narrazione transmediale è la più potente chiamiamola macchina narrativa che sia mai stata messa a punto dal genere umano un esempio delle modalità con cui si lavora a livello di media sensi e di media labelling è rappresentato dalla ruota delle emozioni qui vedete le emozioni fondamentali che in genere vengono considerate emozioni primarie innate un po' come con i colori primari dalla combinazione di questi atomi emotivi originari derivano tutte le altre reazioni emotive ecco progettare per esempio un progetto transmediale deve etichettare cioè deve classificare tutto il repertorio emotivo che deve gestire e chi progetta e poi costruisce la storia deve essere consapevole di quelle che sono le emozioni da inibire da sollecitare nel pubblico quali conclusioni trarre da tutto questo a quali indicazioni pervenire riguardo a quella che è la nostra attività la formazione e l'educazione certo non quella di cacciare i poeti e di rinunciare alla narrazione che anzi la narrazione è uno strumento che come abbiamo visto è indispensabile e non possiamo farne a meno non vogliamo farne a meno gli aspetti positivi della narrazione sono messi per esempio in evidenza da Jenkins in cultura convergente quando vede proprio nella narrazione o nelle nuove opportunità offerte dal digitale a tutti di diventare autori narratori quella che lui chiama la cultura grassroots la cultura popolare e quindi la possibilità tramite le competenze digitali di diventare tutti dicevo autori e partecipare alla grande narrazione babelica totale e complessiva del web per esempio bene non quindi rinuncerà alla narrazione però viviamo pure felici e contenti ma con gli occhi bene aperti e insegniamo anche ai nostri alunni a spalancare gli occhi quando quando occorre vi ringrazio e vi auguro una buona giornata a spalancare gli occhi che ci sono a spalancare gli occhi